Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Liberi, 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 liberi. La prima domanda è sicuramente la più semplice o la più complessa, perché bisogna vederla come la vedi. Chi è Max Rasa? Max Rasa è un uomo ormai, considerato all'età, però in realtà è una persona che comunque ha amato fin da piccolo la musica, tant'è che ha fatto un excursus negli anni, facendo anche diversi tipi di genere musicale. Io nasco fin da piccolo con questa passione, poi il professore di musica, come abbiamo avuto ognuno di noi, mi ha dato un po' l'input e da lì ci ho creduto e ho cominciato comunque, sai, con le prime band tra amici vai a suonare in giro e impari a suonare uno strumento oltre a quello che è la voce e ti immergi in questo mondo che comunque è fantastico, pur avendo 1500 limiti, considerando il fatto che comunque chi viaggia bene viaggia nel major e chi comunque viaggia nella passione è nella parte minore, cioè la parte che comunque alla fine non viene vista, ma comunque è quella che porta avanti anche quello che è l'industria musicale. Va bene? Perché comunque anche noi che siamo un po' piccolini, probabilmente un disco, una promozione, un concerto, un qualcosa insomma lo si fa e lo si fa per noi, ma lo si fa anche per portare avanti quello che è un po' il pensiero che la musica è un qualcosa che deve essere indelebile nel tempo, è un qualcosa che rimane e ti fa sentire comunque importante. Ecco, ti rende protagonista in una situazione che è la vita che ti mette nella condizione di dire ma chi siamo? Siamo solo uomini? No, io sono anche un cantante musicista, sono Max Rasa. Probabilmente col cognome ci si gioca spesso, Rasa, Rasa. Ma guarda, è un qualcosa che diventa, anche se vogliamo metterci del sarcasmo, la rusa è Rasa e a corepe a casa. In veneziano ci hanno fatto anche una poesia, chiamiamola così, con il mio cognome. Anche se in realtà, insomma, Rasa non è proprio un cognome veneziano, ma bisogna andare forse probabilmente a ricordare la bella ed eterna Sicilia. E adesso passiamo agli ultimi due lavori, perché nell'arco del mese mi pare di aver visto che ci sono due singoli. Chiaramente, intanto, tra due, tre singoli. Tre. Nell'arco di un mese tre singoli, che è tanto. Come nascono queste canzoni? E come si sviluppano queste canzoni? Allora, io principalmente sono il frontman di una band che fa pop rock, la quale, appunto, gira un po' tra le varie regioni italiane e si è trovata quest'anno, nel 2021, ad andare a partecipare a quella che è la finale di Sanremo Rock all'Ariston di Sanremo a settembre del 2021. Detto questo, io ho voluto prendermi uno spazio per me. Ho detto, Max Rasa, che lavora con la Canibastardi Band, va benissimo. Ma perché Max Rasa non vuole un po' evolversi dandosi un po' la linea da solista? Questo è venuto fuori da un momento un po' critico che mi ha messo in condizione comunque di mettermi a confronto con la vita. E questo stiamo parlando di un qualcosa che va al di là della vita stessa, ma è una situazione che comunque è inerente alla medicina. Mi hanno trovato una malattia, io da quella malattia l'ho affrontata e dal momento che l'ho affrontata mi si è aperto un mondo, in questo mondo ho voluto essere un po' protagonista. Quindi ho scritto canzoni, queste canzoni prodotte insieme con il mio produttore artistico Michele Bonivento le abbiamo trasformate in quello che è un mio prodotto che a fine di ottobre-novembre verrà fuori con un vinile. Detto questo, perché non iniziare con dei vari singoli che comunque facciano un po' da apripista prima di fare questo prodotto finale che è il vinile. Sono venuti fuori questi videoclip che finiranno diciamo in anni massima nel mese di agosto con un nuovo videoclip e faranno parte poi di un vinile che andrà in andrà in onda, cioè andrà in onda, andrà in visione a ottobre-novembre. Dal titolo sta cambiando. Sta cambiando che comunque il titolo di un singolo che è venuto fuori l'altro mese il quale ha avuto anche buone buone critiche diciamo da un punto di vista del prodotto ma è iniziato con un altro singolo che si chiama Vuoto Apparente. Questa cosa qua più quello di oggi, quello che ho presentato dal primo luglio che ha il titolo appunto Lasciami andare. Questi qua sono tre passaggi che vanno a raccontare me, vanno a raccontare il mondo, vanno a raccontare il pianeta dal sociale al pubblico a quello che comunque è il mio sentimento nei confronti della vita e niente, mi rendono soddisfatto di quello che ho fatto e di quello che ho avuto come collaboratori anche in questa in questa produzione perché comunque stiamo parlando di musicisti di prima di prima categoria passami il termine prima categoria persone che comunque sono persone che hanno i piedi a terra ma sono musicisti che hanno uno spazio come se fossero degli astronauti ok? Abbiamo visto tre video diversi proprio nello stile ma non il genere come nascono questi progetti? Come sono nati questi progetti? Alla fine come si sono sviluppati? Allora si sono sviluppati con questa vedi con la mia chitarra io mi metto là con la chitarra e comincio a strempellare poi quando trovo ovviamente tutto quello che faccio poi lo registro queste registrazioni che comunque rimangono impresse rimangono nel tempo mi danno anche l'idea una volta confrontate appunto con il mio produttore artistico di decidere se metterli in promozione o meno questa cosa qua mi ha dato anche la soddisfazione comunque di dire la prima canzone è nata appunto da un disagio che ho avuto io da un punto di vista della salute no? Questo disagio si è trasformato in un brano è un brano che comunque alla fine ha fatto un po' da apripista a quelli che comunque sono arrivati dopo e questa cosa qua mi ha reso mi ha reso mi ha reso mi hanno dato un'energia come il brano dice appunto l'energia è vita se tu non ci metti un po' di tuo se tu non ci metti un po' della tua voglia la vita comunque rimane piatta abbiamo avuto un anno e mezzo forse lo avremo ancora adesso di pandemia che ci ha rinchiusi in casa senza sapere dove siamo cosa facciamo eppure siamo vissuti siamo vivi siamo qui e dico ma perché non bisogna un po' abbellire questa vita anche se è monocchio ecco che i brani mettono in condizione anche di dare una sorta di spot a dire ragazzi miei anche se la vita è questa maniera qua vista dobbiamo aprirla e essere un po' a 360 gradi vedere anche nella monotonia forse qualcosa che magari ci può aprire e dare una speranza ecco la speranza è quella che comunque come sta cambiando sta cambiando un pianeta che ci chiede aiuto ci chiede ci chiede appunto la possibilità di dire ragazzi datevi da fare perché non c'è molto tempo da ancora davanti ecco questo però ci mette anche nella condizione di stop diamoci da fare perché altrimenti qui tra un po' non parliamo più siamo tutti morti invece avendo quell'idea e quel pensiero quel rispetto nei confronti di chi ci sta di fronte e anche nel nostro mondo ci mette anche nella condizione di pensare domani ci sarà sicuramente ci sarà e chi sarà il protagonista siamo noi abbiamo visto un secondo videoclip dove ci sono tanti colori tanti tanti effetti tanti è un video particolare però intrigante e affascinante allora scusami ma il secondo videoclip stai parlando di quello dove c'è il fuoco dietro dove c'è quello si chiama sta cambiando appunto poc'anzi ti ho espresso quella che era la mia idea il cambiare non è tanto cambiare noi come persone ma cambiare il nostro modus operandi nei confronti di quello che è la natura del pianeta e il rispetto del mondo ciò vuol dire che se io vado avanti a criticare gli altri oh guarda quello sta buttando la sigaretta ma siamo i primi a buttare la lattina di coca cola a terra siamo anche noi protagonisti negativo di una soluzione ovviamente che non ha ritorno riguardo il mondo dobbiamo essere noi i primi comunque a rispettare il mondo e comunque interagendo con gli altri pensando che comunque il mondo deve continuare grazie anche alla nostra possibilità al nostro polso al nostro cuore punto questo qua è il brano sì sì infatti poi nell'ultimo video invece c'è anche una parentesi di gospel è inserito anche il senso del gospel che poi nella canzone è veramente bellissimo bello perché dà un senso di libertà perfetto sì il brano è voluto così allora io l'ho scritto ovviamente come ti ho detto prima chitarra e voce però avevo già un'idea di come improntarlo con questa sorta di viaggiare liberi 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 e chi poteva darci un messaggio del genere se non avere alle mie spalle o al mio fianco un gruppo gospel che desse quell'impronta quella forza che comunque un gruppo gospel dà quindi l'idea è questa siamo in una vita rutinaria siamo in una vita che comunque ci ha dato come avevo detto tante negatività cominciando dal covid pensiamo che comunque noi siamo uomini e dobbiamo vivere come dice anche la costituzione liberi dateci la possibilità di muoverci in maniera libera ovviamente mettendo davanti tutte le nostre responsabilità il vaccino il il tampone mettiamoci anche davanti quello che è il covid free tanto per capirci il il green free il green covid tanto per capirci che tu dove tu puoi muoverti in maniera libera però voglio andare a vedere il mondo non per scappare ovviamente perché non serve scappare la nostra vita è qui in questo posto nella nostra città nel nostro lavoro nel nostro modo di fare nel nostro quotidiano però dateci la possibilità di vedere il mondo anche per dare a noi la possibilità un po' curiosi perché noi tutti siamo un po' curiosi fateci vedere quella che è anche magari un pensiero diverso rispetto al nostro e come si fa viaggiando viaggiare liberi con il nostro corpo la nostra anima e il nostro pensiero quando manca il palco di questi tempi allora io ho la fortuna di suonare perché sono anche il frontman appunto come dicevo di questa band quindi io vado a suonare in giro un po' per per le varie per le varie regioni un po' per presentare per promozionare un po' per fare dei concerti però non dico oggi perché essendo zona bianca abbiamo più possibilità ma io ho vissuto un anno e mezzo appunto di chiusura completa come se mi avessero tolto un po' l'aria non si può vivere di aria chiamiamola così data in maniera meccanica bisogna vivere di aria naturale per me la musica è aria naturale perché appunto non vivendo di musica però nel mio caso la musica è la mia vita quando tu sali sul palco e inizi a suonare le tue canzoni le vostre canzoni e vedi di fronte gente che inizialmente sembrano un po' titubani ma poi ridono piangono cantano si emozionano e li vedi che sensazione provi? è una sensazione grandissima è una sensazione che comunque ti apre il cuore perché il messaggio che dai mentre stai cantando è un messaggio che è tuo dal momento che recepisci da parte del pubblico come dicevi tu cantano piangono la ballano e la fanno sua diventi anche un po' il loro complice e questo ti fa sentire ma molto vicino quindi è una gioia immensa è un qualcosa che comunque ti rende ti rende grande ma allo stesso tempo ti rende fratello di chi ti sta guardando perché comunque ricordati chi sono i protagonisti in quel momento sono chi ti sta guardando cioè le persone che ti guardano ti ascoltano sono loro che devono capire che quella è la loro serata la mia è una routine per loro è un momento e quindi per loro un applauso grazie e se potessi scegliere o dandoti un pulsante ti permette di saltare su un palco un palco tu tu hai suonato tu oppure un palco particolare di una band e suonare in quel momento perché hai avuto o ti darebbe quella sensazione particolare quale concerto salteresti? beh quello che ho fatto qualche anno fa io ho suonato a San Marco in piazza San Marco quindi stiamo parlando di un palco che comunque è il mondo ci invidia a livello non italiano io ho suonato là in un carnevale quindi stiamo parlando di un carnevale dove ci sono migliaia e migliaia di persone e sentirmi sopra e mi sentivo come chiamiamolo così il presidente della repubblica quando parla però in realtà quando ti avvicini verso il pubblico ti senti anche uno di loro quindi è una cosa fantastica è una cosa fantastica e il suonare davanti a un pubblico è la cosa che comunque dovrebbe mettere in condizione ogni artista di sentirsi non siamo superman ragazzi siamo uomini quindi come uomini abbiamo le nostre sensazioni i nostri sentimenti e abbiamo anche le nostre debolezze quando ti trovi di fronte a qualcuno che comunque ti abbraccia anche solo ed esclusivamente cantando il tuo brano in maniera chiamiamola così non reale ma non diciamo non reale ma allo stesso tempo è reale perché comunque li vedi li senti là ti senti un po' il padrone del mondo e ti senti comunque padrone di te stesso perché stai dando un messaggio bellissimo bellissimo mi hai citato i cani bastardi band che ne fai parte abbiamo detto a settembre ci sarà Sanremo rock sì sì già dire Sanremo è comunque un punto spesso un punto di arrivo però dovrebbe essere un punto di partenza certo allora però guardami in faccia io non sono giovane come te purtroppo io sono un po' più vecchio di te non voglio dire che sia un traguardo perché non è un traguardo però è un punto dove siamo arrivati a livello nazionale dove ci sono tanti che si iscrivono a questo concorso poi passano delle selezioni e arrivano poi ad essere magari anche elimina io in quel momento quando andrò a cantare in questa manifestazione all'Ariston dove sono passati tutto e di più ovviamente in un'organizzazione fantastica dove sono venuti fuori dei personaggi in quel in questo contesto hai mai visto Tulli Gabue che è andato a fare Sanremo quello normale? no l'ha fatto lì hai mai visto Gianna Nannini che ha fatto Sanremo lì? no l'ha fatto qui a Sanremo quindi tutti questi personaggi Elite Fiba Elite Fiba oltre a due anni fa che ha fatto appunto lui Piero Pelui il brano però lui è venuto fuori da un Sanremo Rock per me è una cosa grandissima perché comunque io che comunque faccio parte di una di una provincia di una località per quanto possa essere conosciuta Venezia arrivare alle porte di Sanremo e entrare dentro a un teatro che comunque è conosciuto in tutto il mondo puoi ben capire che per me è una soddisfazione enorme insieme a quella che è la mia band che comunque portiamo avanti in questo progetto che è la Cani Bastardi Band come nascono le canzoni nascono prima le melodie prima la musica prima le parole o nascono insieme? è una cosa soggettiva questa domanda qua mi è stata fatta anche da altri e io rispondo in questa maniera e vengono fuori da quello che senti tu quindi se hai un brano dove che hai una serie di se hai un'armonia da proporre che poi diventa una melodia che può starci dentro a un testo che puoi aver scritto o che hanno scritto benissimo altrimenti è qualcosa che può nascere anche da un testo che poi ci trasforma io non sono una persona meccanica ecco io non lo faccio di mestiere il compositore e l'autore io lo vivo su quello che è il mio sentimento quindi in quel momento quando mi sento scrivo alcune vengono bene alcune vengono male quelle che vengono male poi vado a produrle in una situazione tipo quello che andrete ad ascoltare o avete ascoltato a questo punto ci aggiungo una piccola parte che probabilmente forse te l'hanno fatta ma le parole le canzoni sono un estratto di vita o una ipotetica vita? diciamo che io lavoro molto sul mix diciamo che non sono un dj però uso il metodo del dj per scrivere quello che è la mia vita nel senso che comunque vado a mixare quelle che sono le mie esperienze quelle che sono i miei sentimenti con le esperienze di altri o magari con una situazione che viviamo socialmente nel quotidiano o quello che fa la storia comunque in quel momento quando ti senti nel momento di scrivere qualcosa tu la scrivi come ti dicevo prima io scrivo e magari compongo poi vado a registrare se è una cosa che è in primo ciac va bene siamo a posto se devo lavorarci ecco allora che mi metto in condizione attraverso il mio produttore artistico che è anche comunque il musicista che mi va ad arrangiare i brani e da lì poi si va a verificare quello che è la magia cioè la fai diventare una canzone che comunque diventa una canzone che viene presentata è quello là e poi per me il traguardo è arrivare poi al pubblico il pubblico che deve oltre ad ascoltarla deve capire cioè deve amarla e quando e quando uno ama quella canzone là ti posso assicurare che hai tutte le soddisfazioni del mondo puoi suonare anche per centomila persone ma quando ti ritrovi di fronte una persona che scrive bravo Max mi hai fatto emozionare mi hai fatto sentire quello che senti tu ecco per me quella è una firma indelebile che mi mette nella condizione poi di dire vado avanti a scrivere perché questo è importante mettere in condizione gli altri anche di star bene non è altruismo è egoismo stai attento noi come musicisti ci sentiamo siamo quelli che vogliamo andare sopra un palco quindi siamo quelli che vogliamo apparire è un po' di egocentrismo questo egocentrismo però va alla salute al pensiero positivo anche nei confronti di chi ti ascolta e questa cosa qua è pura magia la musica è magia c'è qualche artista che dice io scrivo la canzone ma poi in realtà molta gente la fa propria perché oltre che una canzone fatta nel disco ok ma ogni volta che si suona esce in modo diverso viene vissuta in modo diverso anche nello stesso cioè nelle stesse tour non è che si suona allo stesso modo perché di fronte non è una stessa persona no allora diciamo che se tu vai a interpretare un brano di qualcun altro io ho fatto per 15 anni il frontman di una band che faceva anni 80 per cui puoi puoi pensare bene che quando ti presenti di fronte vai a presentare tutti questi colossi che negli anni 80 e dopo anche hanno fatto furori ti senti un po' la radiolina sfigata di quello che vuole presentare no il brano e ti dico la lavora molto quello che è il carattere dell'interprete quello che vuole rappresentare io non mi sento tanto tribute mi sento tanto cover quando vado a fare un brano di altri perché comunque voglio metterci del mio e quel metterci del mio comunque va a mettere anche in risalto quello che è il carattere comunque la sensazione di presentare un qualcosa e farselo proprio pur rispettando quelli che sono i canoni che l'autore ha voluto che fossero insomma rimanendo in quella metrica tra le varie domande e tra le tante affermazioni che ti hanno fatto in questo tempo da quando è iniziato ad oggi sì qual è la più assurda escluse le nostre escluse le nostre qual è quella qual è quella domanda più assurda che ti hanno fatto dove la domanda non aveva senso logico ma la risposta poi alla fine non ha avuto né il capo né cosa appunto la domanda è stata quella del dire del dirti per te la musica che cos'è cioè noi possiamo parlare di vita di morte del mentre in cui la viviamo e come ti ho sottolineato prima la risposta che mi è venuta proprio in maniera naturale è stata la musica non è non fa parte diciamo del mio della mia vita rutinaria però comunque la musica è la mia vita quindi la risposta è questa e se tu ti trovi di fronte a dover scegliere mettere in palio quello che tu cosa cosa preferiresti preferiresti vivere o preferiresti vivere con o preferiresti la musica io ti dico io mi metto in mezzo dicendo io vivo con la musica ok questa qua la mia è la mia risposta assurda ma che comunque ci sta tutta in questa domanda che tu mi hai fatto bene bene oltre che a venezia c'è stato un concerto che sicuramente è rimasto nella storia che ha lasciato un po' il segno per tante generazioni il live pink floyd sì sì io ero lì ha lasciato un po' di storia e quindi guarda la storia la storia l'ha lasciata per quello che hanno dato a venezia però non ti voglio raccontare quello che sono state le nefaste le nefaste epiloghi gli epiloghi del del dopo perché comunque è venuto fuori un casino grandissimo dove c'era appunto le aziende l'azienda quella che diciamo la municipalizzata delle polizie di quello che è l'immondizia insomma lo spazzino che è andato fuori di testa si è trovato una San Marco sporca una San Marco che è andata fuori non c'è stato un rispetto della città c'è stato un rispetto però dell'evento perché comunque oggi resta ancora uno tra gli eventi in Italia più importanti che siano stati fatti appunto anche nella condizione che suonavano in un chiamiamola così in un sopra sopra a una a una pseudo barca ok di fronte a San Marco proprio nella laguna di Venezia quindi una una cosa emozionante grandissima e loro comunque rimangono evergreen loro rimangono un gruppo che secondo me io non devo neanche parlare mi metto in ginocchio e resto lì proprio a a viverli a viverli studio 7 in collaborazione con sport e piceno game presenta l'intervista di Pietro non c'è il tempo per fermare tutto questo cambierà viaggiare liberi 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 avrai lo spirito avrai avrai l'open mind come si suol dire la mente aperta quindi la vivi in maniera meravigliosa come deve essere hai citato la canzone che io andavo pazzo nel quando facevo il dj a quei tempi in passato open your mind era una versione dense anni 80 un tormentone è fantastica e quando lo sentivo io lasciavo i piatti e mi mettevo al centro del palco e per ballavo come un pazzo dimenticandomi che lasciavo il paio prende i piatti tutto quello che suonava da sopra c'era il buio dicevo scusate ma due dice eccolo ma hai detto hai detto una cosa hai detto una cosa meravigliosa prima da cosa nascono le canzoni nascono da un'esperienza che ognuno ha vissuto comunque vogliono presentarla per qualcosa che è vissuto è la mente aperta oggi la chiudiamo perché comunque le circostanze ci mettono nella condizione di chiuderla e di viverla un po dalla da esserno da quelli che comunque non dicono va bene andiamo avanti certo signore ok quando noi quando noi l'abbiamo vissuta in maniera diciamo adolescenziale e non l'abbiamo vissuta nel miglior periodo della nostra vita perché gli 80 90 non ce ne sono neanche i 70 se vogliamo 70 a vincere i musicisti però gli 80 e 90 hanno aperto quello che è il mondo dove noi comunque continuiamo a condividere che appunto è la musica è la vita e la sensazione che comunque tutto sia luci e colori cosa che adesso lavoriamo tra il grigio e il bianco studio 7 in collaborazione con sport piceno game presenta l'intervista di pietro non c'è il tempo per fermare tutto questo cambierà viaggiare liberi 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 Grazie a tutti.